di licenza e mancanti di autorizzazioni ma presenti su internet per intercettare da tutto il mondo le prenotazioni online per un soggiorno nella perla del tirreno. Le fiamme gialle della tenenza di tropea nell'ambito dell'attività, volte al contrasto dell'evasione e l'abusivismo del settore turistico ricettivo e in collaborazione con la polizia locale, nelle ultime settimane hanno eseguito una serie di controlli nei confronti degli esercizi bed and breakfast, scovando 38 strutture completamente abusive. Dopo aver individuato le strutture ricettive online e riscontrata la loro presenza nel territorio, anche a seguito di sopralluoghi nelle adiacenze delle strutture reclamizzate, i finanzieri hanno proseguito l'attività di analisi incrociando i dati presenti nelle banche dati in uso al corpo, con le informazioni rilevati sui siti internet e social network, acquisendo informazioni sul numero di stanze, i prezzi praticati, le recensioni e i feedback ricevuti dai clienti, svolgendo contestualmente una capillare azione di osservazione e controllo a conferma dell'esercizio abusivo dell'attività ricettiva. Al termine degli accertamenti, i 38 bed and breakfast, pur essendo sistematicamente pubblicizzati sui siti internet specializzati, sono risultati non in regola con il fisco e non aver mai dato corso alla denuncia di inizio attività presso gli uffici comunali, omettendo di conseguenza il pagamento dei tributi locali come i mutari in posta di soggiorno, ai titolari delle strutture abusive sono state contestate sanzioni amministrative fino a 38 mila euro per l'esercizio dell'attività ricettiva in assenza delle prescritte autorizzazioni.